Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il Vivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Pisa, due chilometri di coda per incidente tra Cascina e Navacchio. Ci sono poi code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita Greve Inchianti. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione Sud. La viabilità cittadina a Firenze è chiusa per scavo urgente via della nave di Brozzi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!